Ciao a tutti! Allora, oggi andremo a provare delle buonissime, forse, barrette proteiche! Aspetta, scusate. Allora, abbiamo una buonissima barretta proteica, che dice? Barretta al cacao, 32% proteine. No! No, aspetta. Faccio veloce, dai. Inizia a leggere quelli di questo. No, no, no. Allora, siero, 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 che è? Tutto siero. Olio di semi, di palma, burro di karité, inulina, croccamai, che ci fanno male queste cose particolari. E non abbiamo detto quella che questa è. E poi abbiamo preso questa barretta che ha cioccolato e nocciole. No, mandorle, noccioline, mandorle. Quella deve essere buonissima. Allora. Intanto apro questa. Burro di cacao, cioccolato con nente, arachidi tostate, agli acrisi, svitoia, vabbè, ci c'è calavola. Mamma mia, ma vedi questa? Cioccolato? Eh, ma vedi com'è bella, sembra tipo il mass. Questo è l'interno. Aspetta, che profumo. Anche se vi dirò, a me le nutelle fanno venire mal di stomaco, quindi... Mmm, questa è una cagata. Uh, che bella questa. Guardate questa, quanto è bella. Mi sa che... Andiamo al dunque, che fanno? Allora, assaggiamo prima questa. Sembra un mass. Più o meno. Ma quante cavalli hai? Boh. Sembra tipo il finto mass. Vediamo questa. Questa, vabbè, è favolosa. Mmm, ormai io voglio, non la posso mangiare. Mmm. Questa è buonissima. E questa? Buona. Mmm. Buonissime. Questa è favolosa. Non pensavo, ho detto, sicuramente non sanno di nulla, sicuramente sono, no? Invece sono proprio belle. Quindi questa, assaggiatela, perché sembra tipo i semi di sesamo, il croccantino al sesamo, con le noccioline. E il cioccolato. Vedi le calorie, scusa, bella. Allora, di questa? 210. Qua? 210. Mmm. Mmm. E non è piaciuta. Ehi, vedi la tu. Tu attiglia la presa. Ma questo ti costruisci la la fai? No. Non assaggio queste cose particolari. Dove si vede le calorie qua? Qua non ci stanno proprio. Mmm. Venga, vedete. Vabbè, ma qua, scusate, ma qua c'è la legge di ingrandimento per farsi video. Eh, per piacere, scrivete un po' più grande, gentilmente. Allora, qua 490 calorie, queste qui con le noccioline. Questa qui tutta a cioccolato? 210. La metà. Quindi, sono un po' più, meno calorica. Comunque queste, io non so se sono sostituiti del pasto. Non, già poche, quella cosa a cioccolato. Non so se sono sostituiti del pasto, ma penso di sì. Quindi, se per esempio voi volete saltare un pasto, una cena, non avete voglia, ma volete un dolce, vi prendete una barrettina proteica e cenate. Certo, non è la stessa cosa del piatto di pasta, però non male. Mamma. Va bene, allora, io do un bel 10, soprattutto per questa, che è buonissima. Dove l'abbiamo comprata? Alla Todis. Ah, alla Todis. Ne ha tantissime, a vari gusti. Nulla. Noi vi salutiamo, mi raccomando, provateli, perché sono molto, molto buone. Un euro l'una, forse. Non so di sì. Ci vediamo al prossimo video. Like e commenti. Ciao. 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 Ciao.